Ulteriori risorse economiche per l'Ucraina, questa volta per comprare armi. I ministri degli esteri europei hanno deciso di stanziare altri 500 milioni di euro dal Fondo Europeo per la Pace per fornire a Kiev più potenza di fuoco contro l'aggressione russa. I 27 hanno anche discusso la proposta di vietare le importazioni di oro dalla Russia. Si tratta di un modo per rafforzare i sei pacchetti di sanzioni già approvati. I diplomatici però hanno spiegato ad Euronews che c'è tra gli Stati membri una sorta di stanchezza da sanzioni. Secondo l'alto rappresentante dell'Unione Europea, questa stanchezza non è accettabile. Sono sicuro che Putin conti sulla stanchezza delle democrazie, ne sono certo. No, le società europee non possono permettersi la stanchezza. Le società europee e i governi degli Stati membri dell'Unione Europea devono continuare a sostenere le decisioni che hanno preso. Hanno assunto decisioni su misure restrittive per l'economia russa e devono rispettarle. Mentre la crisi energetica continua e i prezzi salgono alle stelle, alcuni governi europei iniziano a essere riluttanti a spendere più soldi per aiutare l'Ucraina. Parlando con Euronews però, l'ambasciatore dell'Unione Europea in Ucraina ha spiegato che il denaro è più necessario che mai, perché la guerra sta minando l'economia del paese. L'Ucraina indica un buco di bilancio mensile di 5 miliardi di euro. L'assistenza finanziaria internazionale proveniente da diverse fonti non è ancora sufficiente a colmare questo divario. Posso solo esprimere la speranza che le discussioni tra gli stati membri dell'Unione Europea sull'assistenza macrofinanziaria da 9 miliardi procedano più rapidamente. L'Unione Europea ha deciso di sostenere l'Ucraina con 9 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria e il primo miliardo dovrebbe essere erogato a luglio, ma non c'è ancora un accordo per l'erogazione del resto.